buongiorno a tutti e bentornati a questo secondo appuntamento sulla xenofiction dove entreremo più nel dettaglio sui sensi degli animali sono francesca damato sono una scrittrice e mi piacciono i draghi questo ormai l'avrete capito il mio punto di vista sui draghi è cercare di darvi la maggior dragosità possibile e per fare questo ho invitato benedetta troni dottoressa in scienze naturali a cui la fantascienza e il fantasy piacciono legge un sacco e soprattutto ha studiato un sacco e quindi approfitteremo della sua formazione e dei suoi interessi per addentrarci nella xenofiction grazie di essere qui benedetta grazie a te francesca allora in questo segmento parleremo appunto più dal punto di fisiologia negli animali più che altro tutto il mondo legato ai sensi nello scorso episodio tu hai fatto l'esempio del gabbiano jonathan livingston per indicare un modo diverso di percepire il mondo c'è un mondo in tre dimensioni nel quale si vola un mondo fatto di aria correnti eccetera che quindi è molto diverso rispetto al nostro che si basa su due dimensioni perché noi ci spostiamo prevalentemente in orizzontale ma questo non è l'unico modo diverso di percepire il mondo ce ne sono moltissimi legati appunto ai sensi degli animali perché chiaramente gli animali li hanno sviluppati in maniera diversa da noi chi ha più sviluppato l'olfatto chi l'udito eccetera ma addirittura esistono dei sensi che noi non possediamo per esempio la termorecezione cioè la capacità di vedere delle nubi di calore prodotte per esempio da organismi viventi noi mammiferi appunto essendo omeotermi produciamo calore corporee questo calore può essere percepito da alcuni rettili come alcuni serpenti per esempio i famosi crotali serpenti assonagli se un crotalo mi guardasse in questo momento vedrebbe una nube di calore un po più calda del normale perché sono un po febbricitante quindi potrebbe capire questo piccolo cambiamento che di solito gli è utile per trovare i topi io in questo momento profumo di violetta perché lo shampoo che uso sa di violetta e casa mia sa di zucca e di patatine fritte perché ho avuto degli amici a cena ieri sera e l'ambiente si è impregnato di queste sostanze per chi ci sta leggendo i sottotitoli ho un problema con la r quindi la mia r è un po moscia un po francese e per chi invece e per chi invece non ci vede sono una donna caucasica con i capelli bianchi e casa mia è piena di piante stampe di draghi e libri di draghi per chi non mi vedessi invece io sono appunto una donna caucasica con un paio di occhiali a farfalla e i capelli riccioluti messi un po a scienziata pazza mettiamola così è uno sfondo più neutro un armadio bianco alle mie spalle e vediamo adesso un po più nel dettaglio cerchiamo di entrare nei mondi di altri animali e per farlo dobbiamo introdurre il concetto di am welt teorizzato per la prima volta dall'ozologo lituano jacob von ark school che descrive essenzialmente il paesaggio soggettivo specie specifico cioè il modo in cui un organismo percepisce il suo ambiente in base ai propri sensi noi ci siamo basati soprattutto sul bellissimo saggio di ed young un mondo immenso infatti qui vedete la copertina ecco c'è la francesca è bello corposo ma vi assicuro che un sacco è bibliografia ma è veramente un lavoro bellissimo e soprattutto perché spiega molto bene come mai un mondo immenso perché ci sono infiniti modi di percepirlo attraverso sensi molto diversi dai nostri e ognuno di questo senso appunto delinea un paesaggio sensoriale specie specifico cioè il mondo che percepisco io è diverso dal mondo che percepisce un elefante un polpo una balena un crotalo eccetera e più si va lontano dal nostro gruppo più andiamo lontano per esempio dai mammiferi dai vertebrati è più il mondo è diverso il mondo di un artropode di un di una mosca di un'ape è qualcosa che io riesco a fatica a concepire perché siamo nel film degli artropodi quindi un mondo completamente a parte e provare a immergersi in un mondo completamente diverso dal nostro è uno spettacolare esercizio di ginnastica mentale tutti quelli che leggono provano a mettersi nei panni di qualcun altro e già questo esercizio di vedere il mondo con gli interessi con le priorità con le sensazioni di un'altra persona è un ottimo modo di aprire la mente e di esercitare il muscolo dell'elasticità dell'ampliare la propria comprensione uscire dai paraocchi dei propri binari mentali quando questo questo esercizio non solo si mette ci aiuta a metterci nei panni di una persona diversa da noi ma man mano ci allontaniamo dalla persona arriveremo a comprendere non solo l'umanità come abbiamo fatto leggendo storie di altri esseri umani ma comprendere tutto il pianeta in cui viviamo quindi questo che noi facciamo veramente ci ci porta ad una connessione con il pianeta con l'universo col mondo molto più ampia e veramente andrete in giro e guarderete e vi parlerà questo mondo se voi riuscite a mettervi in ascolto o a mettervi nei vostri panni o a cambiare le vostre priorità per adottare quelle di un altro punto di vista quindi è curioso è come fare un viaggio veramente in un mondo alieno benvenuti molto molto bello interessante e soprattutto fortunatamente anche nei medium più visivi per esempio i film i cartoni e si sta cercando anche di aprirsi ai mondi di altri animali e a come percepiscono l'ambiente attorno a loro per esempio viene in mente il cartone wolf walkers della cartoon saloon studios siccome la protagonista è una shape shifter cioè lei si trasforma da ragazzina in lupo c'è una sequenza molto bella in cui noi vediamo il mondo attraverso gli occhi di un lupo quindi è tutto fatto di nubi odorose rappresentate con colori diversi e piccoli sentieri appunto di sci e chimiche mi verrebbe da dire ma di sci appunto odorose che la protagonista segue come se fossero una linea continua e questo è super interessante perché rispecchia perfettamente il modo in cui annusano i cani i cani di in generale noi annusiamo soltanto quando inspiriamo quando buttiamo fuori l'aria non sentiamo gli odori invece i cani annusano in maniera continua loro percepiscono proprio dei sentieri di odore e comunque questo per dire che applicare appunto i principi di scrittura trasparente all'accent fiction cioè quando siamo dal punto di vista di un animale permette proprio all'altro di accedere a nuove esperienze sensoriali ed entrare in un mondo completamente diverso e fantastico addirittura pensate anche solo mamma mi si sono ristretti ragazzi quando cambia anche solamente la scala a cui guardi le cose il mondo cambia quindi ce n'è ce n'è cosa succede quando arriviamo invece nel punto di vista molto distante dal nostro quando sei dentro un'ape cioè che cosa è importante per un'ape che cosa cerca che cosa vuole come si orienta come come comunica con le sue cose con specifiche cosa vuol dire essere un'ape benedetta vuol dire diciamo appunto essere una parte di un come dire di un ecosistema più grande e molto unito cioè appunto l'alveare è organizzato in una maniera molto rigida con delle caste che vanno da quella più bassa che sono le operaie fino alla regina che in questo libro la vedremo la in questo libro che è bis di l'alimpol viene raffigurata come se fosse una sorta di dea madre quindi c'è anche dei tratti un po distopici questo libro però anche questo prova riscontro dal punto di vista naturalistico perché la regina e le caste più alte impartiscono degli ordini tramite dei feromoni che sono delle molecole appunto che noi non sentiamo non abbiamo coscienza di annusarle ma che le api percepiscono attraverso le loro antenne e in questo libro si fa uso di descrizioni particolari perché non sono vengono odorati ma anche gustati e visti proprio come delle nubi chimiche e poi tra l'altro vengono percepiti come degli ordini una sorta di telepatia se vogliamo c'è la regina ti ordina di andare di qua di andare a impollinare di portare il miele eccetera eccetera quindi è molto interessante da questo punto di vista c'è un po di licenza poetica come giusto che sia ma leggendo questo libro voi avrete proprio la percezione di essere un'ape cioè io per quando ho letto bis purtroppo l'ho trovato su un circuito dell'usato non è più disponibile da salani però per queste 300 pagine io sono stata più un'ape che un mammifero e è stata un'esperienza completamente rivoluzionaria e mi ha dato anche contezza diciamo di alcuni fenomeni come le gelate primaverili che stiamo vivendo in questo periodo che per gli insetti e gli impollinatori sono devastanti perché scombinano i loro cicli vitali ti sei sentita oppressa dal fatto di ricevere ordini a cui non potevi sottrarti scusa curiosità personale un pochino sì perché appunto la regina qui non è soltanto il capo è la madre di tutti perché le api si riproducono in una maniera molto particolare cioè la regina prima di fondare un alveare suo si accoppia con molti maschi e tutte le uova fecondate in quel momento lì nella sua giovinezza serviranno poi a produrre il resto delle api e finché lei avrà vita lei produrrà appunto delle figlie e dei figli poi pur che hanno un destino molto particolare però appunto dopo un solo evento di fecondazione da parte di più maschi la regina è satura mettiamola così e per tutta la vita continuerà a produrre uova e questo darà vita all'alveare per cui lei è sì la tua capa ma è anche tua madre ed è una sorta di divinità perché senza di lei l'alveare non esisterebbe quindi insomma c'è un po un senso di timore reverenziale mettiamola così ok ma se andassimo invece nel passato non so che altri dinosauri piacciono un botto piacciono molto e ho recentemente scritto una serie di racconti narrati dal punto di vista di tre dinosauri italiani che si chiama appunto i racconti della tetide e i protagonisti sono ciro antonio e tito tre dinosauri appunto realmente esistiti nell'italia del passato però questo libro invece racconta di un altro dinosauro molto conosciuto a livello del cinema che è lo Utahraptor uno dei tre dinosauri che poi curano la base del velociraptor di Spielberg l'autore tra l'altro Robert Bacher è stato realmente consulente di Spielberg per la realizzazione del film ed è anche uno degli autori del cosiddetto rinascimento dei dinosauri cioè una serie di studi che rivoluzionarono completamente la come dire l'immaginario collettivo dei dinosauri e il modo in cui veniva descritta la loro fisiologia e il loro comportamento la no tra l'altro la nostra protagonista ha un vero e proprio arco di crescita quindi Robert Bacher è stato anche lungimirante nel costruire il suo personaggio e appunto come molti carnivori la nostra raptor red si affida soprattutto a display olfattivi cioè lei fa molta attenzione agli odori attorno a se gli odori anche delle piante dei primi fiori che stanno nascendo nel primo cretaceo e anche agli escrementi perché gli escrementi sono una carta di identità di chi li ha prodotti quindi ti dicono che età ha di che specie è se è disponibile all'accoppiamento nel caso sia un tuo simile se è sano cioè se ti ha malattie appunto non lo prendi in considerazione come partner e tante altre informazioni anche su se si tratta di prede se sono giovani anche qui se sono malate servono anche per marcare il territorio nel caso appunto sempre di carnivori quindi gli escrementi sono molto interessanti e Robert Bacher ci dedica un intero capitolo faccio delle conferenze sulle cacche degli animali fantastici e il pubblico vi assicuro quando gli spiego la differenza tra una cacca di unicorno una cacca di lupo mannaro che differenza c'è tra una cacca di lupo una cacca di lince la adorano quindi grazie grazie per aver parlato di cacca e stavolta non sono stata io e viva le cacca anzi le fatte il termine più naturalistico è fatte abbiamo usato cacca per essere divulgative ma sì ma anche per noi naturalisti sono molto importanti perché dall'estrazione dell'epitelio fecale noi possiamo avere accesso al DNA di chi li ha prodotti quindi anche noi possiamo sapere se è un maschio una femmina se è giovane se è sano eccetera eccetera e anche cosa ha mangiato poi in base al contenuto fecale quindi molto interessanti e per quanto riguarda invece la vista raptor red appunto è un carnivore quindi le serve la visione binoculare per calcolare la distanza tra sé e la preda e questa ce l'avevano tutti i carnivori anche il t-rex la cosa del t-rex che non ti vede se non stai fermo che ha una vista tremenda è inventatissima il t-rex ci vedeva benissimo perché altrimenti non avrebbe potuto cacciare e tra l'altro c'è anche un secondo tipo di vista molto importante che verosimilmente avevano i dinosauri più simili agli uccelli che è la vista tetracromatica cioè la vista capace di percepire anche lo spettro dell'ultravioletto noi umani siamo tricromatici cioè noi percepiamo siamo sensibili a tre picchi di lunghezze d'onda cioè il verde il blu e il rosso e questo ci consente di percepire tutto l'arcobaleno ma c'è uno spettro ulteriore che è quello dell'ultravioletto ma la cosa interessante e questa la spiega molto bene Eddie Young nel suo saggio è che vedere l'ultravioletto non è che ti fa solo vedere delle scale in più di viola si sblocca un'intera dimensione cromatica data dalla combinazione dell'ultravioletto con tutti gli altri colori quindi i colori ultravioletti noi non li possiamo nemmeno concepire per quanto sono elaborati è un livello di vista che non abbiamo ancora sbloccato e questo verosimilmente ce l'avevano i dinosauri più simili agli uccelli tipo appunto i raptor ecco e vedere il mondo con altri colori è interessante perché hai una sorta di messaggi che mandi a qualcuno ma che sono invisibili ad altri quindi quando si legge una di queste storie il personaggio ha una capacità che noi non abbiamo la cosa difficile per uno scrittore è rendere il lettore partecipe di un mondo di cui non può avere un'esperienza diretta e quindi in questo caso bisognerà ricorrere a dei trucchi narrativi che vedremo nella prossima puntata e che devono per forza partire dall'esperienza diretta del lettore ma devono aiutarlo ad arrivare ad estendere i suoi sensi per poter assaggiare il mondo in modi altrimenti impossibili quindi avremo le extension sensoriali sì è molto interessante questo aspetto penso sia il più divertente in assoluto qui allora noi abbiamo portato alcuni esempi di racconti nostri che prendono in esame sensi purtroppo ancora poco rappresentati tra cui appunto l'ecolocalizzazione cioè la capacità di percepire il mondo attraverso gli echi come fanno per esempio i cetacei ma anche i pipistrelli e poi la termorecezione l'esempio che facevo prima con il crotalo che vede che sono più calda perché sono febbricitante vi parto direttamente con l'esempio di una draghessa che vede le temperature quindi ha un modo di percepire le cose intorno a sé e di capire se sono calde o se sono fredde e le usa per guardarsi un partner e quello che lei nota di lui sono le sue aree calde e le sue aree fredde come queste cambiano in base all'attività che fa e la termocezione è uno dei sensi più facili perché abbiamo già visto le termocamere i sensori a infrarossi che convertono l'informazione termica in colori quindi rosso lo associamo al caldo blu lo associamo al freddo e possiamo fare una scala di com'è il mondo guardando solamente la sua temperatura la temperatura delle diverse componenti quello che però è interessante è capire quell'informazione che significato ha per chi la guarda se io guardo un carrello di vestiti in un negozio e scelgo e sono in cerca di qualcosa che mi stia bene io so che una certa palette quella dei colori freddi quindi il blu e il viola stanno bene con i miei capelli bianchi e quindi quelli mi interessano i vestiti sul verde e sull'arancione tendo a scartarli e quasi a non notarli e a non perderci tempo perché non sono l'oggetto della mia ricerca e io mi chiedo quindi se una draghessa sta valutando la fitness riproduttiva quanto è sexy il partner che sta scegliendo quale dei segnali che questo partner emette solo di suo interesse lei se guarda nell'infrarosso vedrà quali sono le zone calde quali parti del suo corpo si scaldano nelle diverse attività anche noi se sto ferma mi raffreddo tutta se corro mi si scaldano le gambe se barlo irlandese mi si scaldano più le gambe delle braccia se allungo le mani verso un termosifone mi si scaldano più le mani della schiena e anche se mi emoziono e mi si dilatano i capillari della pelle le mie guance emettono più calore noi lo vediamo come diventare rossi ma nell'infrarosso nel termico brillano le mie guance perché sono più calde e questo noi lo traduciamo in un'emozione e quello che ci accomuna quindi il terreno comune tra tutti è che cosa significa quel cambiamento nell'ambiente per il nostro mondo interiore quindi se mi emoziono è perché sono imbarazzato perché sono felice perché mi hanno fatto un complimento e questo è un'informazione che possiamo condividere con il vissuto dei lettori il senso che ce la comunica è nuovo ma il vissuto interno deve essere comune in modo da risuonare con i nostri lettori e quindi questa ragessa si sta guardando in questo maschio e se lo osserva e gli guarda la schiena gli guarda i muscoli sulle scapole come si illuminano quando scava che è il punto che lui sta muovendo nel momento di esercitare uno sforzo e da quello valuta se è abbastanza muscoloso da poter scavare poi una tana adatta a contenere la loro discendenza e quindi se è un partner degno di interesse o se è meglio scartarlo quindi quanto è sexy un drago dipende anche da quanto si scaldano i suoi muscoli prendete nota così almeno la prossima volta dobbiamo abbiamo qualcosa di più di draghi che fanno battute sarcastiche in stile four-wing però insomma questo è uno spunto interessante la butto lì comunque nel racconto invece mio siamo dal punto di vista di un'orca quindi noi ecolocalizziamo con lei anzi con lui perché è un maschio cosa vuol dire ecolocalizzare allora le orca appunto come tutti i cetacei producono dei come dire dei fischi ma non è proprio fischi è una semplificazione attraverso lo sfiatatoio cioè una struttura chiamata muso di scimmia fa vibrare la struttura interna dello sfiatatoio e questo suono appunto viene amplificato da come dire una struttura fatta di grassi che si trova nella parte anteriore della testa dove c'è quella parte un po' più tonda lì è contenuto il melone c'è questa struttura di grassi quindi il suono viene amplificato si propaga attorno all'animale e in base al modo in cui torna indietro in base all'eco di ritorno l'animale capisce come è fatto il mondo attorno a sé se ci sono delle rocce se ci sono dei suoi simili se ci sono delle prede eccetera eccetera e tra l'altro nel caso di organismi quindi di congeneri o prede non è tanto come come posso dire delineare il contorno è più come se facesse un'ecografia cioè percepisce le ossa un po' degli organi quindi può percepire per esempio se un'altra femmina se una femmina è incinta se ha magari delle masse tumorali eccetera eccetera e cose di questo tipo e nel caso però di un'orca confinata in una vasca dove essenzialmente lei ogni volta che ecolocalizza percepisce sempre la stessa informazione perché percepisce una parete piatta di cemento diventa non solo come dire noioso e deprimente da sentire tutti i giorni per anni e anni della propria vita ma può essere anche doloroso perché l'eco di ritorno quando quando torna indietro appunto all'animale viene percepito da dei grassi presenti nella mandibola che vibrano appunto in base alla vibrazione l'orca capisce che cosa ha ascoltato se vibra contro una parete di cemento armato e torna indietro chiaramente la botta è forte quindi può fare anche male se lo spazio è particolarmente piccolo quindi quando dice appunto nel racconto che posto è questo cioè è come se facesse uno scandaglio del mondo attorno a sé però percepisce che il mondo non cambia è sempre lo stesso è sempre i soliti non lo so 20 metri quadri non so quanto è grande una vasca per le orche però appunto è deprimente perché questi sono animali abituati a percorrere lunghe distanze questo fatto di privare gli animali di stimoli è un problema che negli zoo si sente tantissimo e ci sono degli esperti proprio in benessere animale che studiano come arricchire gli ambienti in cui vengono tenuti in cattività gli animali per rendere la loro vita un po' meno tragica anche per evitare danni di degrado psicologico la noia ti porta a cercare stimoli che l'unico modo di procurarti è l'autolisionismo quindi a volte si vedevano specialmente negli zoo di vecchia gestione questi animali che sbattevano ripetutamente la testa contro le sbarre o si procuravano delle lacerazioni perché il dolore era l'unica sensazione che poteva alleviare questo abisso di noia in cui vivevano quindi sì sì poi per precisazione dico che la cattività come dire è più gestibile per alcune specie di animali piuttosto che per altre cioè per esempio la cattività viene sopportata meglio dai felini quindi leoni tigri altri tipi di mammiferi da alcuni rettili per esempio i varani sopportano abbastanza bene l'ambiente in cattività altri animali come per esempio i cetacei invece hanno dei bisogni molto più complessi e soprattutto hanno bisogno anche di socialità ma non solo di presenza con i conspecifici ma anche della cultura del loro gruppo perché questi sono animali molto sociali che da branco a branco hanno una cultura diversa quindi mettere nella stessa vasca due animali che provengono da contesti completamente diversi rischia di essere più deleterio che d'aiuto e questo è un altro dei problemi delle orche ma magari ne parleremo un'altra volta leggere comunque delle storie da un punto di vista di un animale ci fa anche rendere conto del nostro impatto sul mondo noi pensiamo ad esempio che illuminare le strade di notte a noi ci faccia sentire più sicuri e quindi vada bene è un sacco di animali che invece hanno bisogno del buio per poter guardare le stelle e orientarsi oppure per riposare e mandare il proprio metabolismo in una fase di riposo e di ricostruzione e di riparazione di tutti i danni biologici che ci sono stati durante il giorno se noi illuminiamo la notte tutti questi meccanismi non possono avvenire e si crea stress per gli animali ma visto che la cosa a noi non dà fastidio pensiamo per estensione che non dia fastidio a nessun altro e quindi anche solo leggere di tanto in tanto qualcosa dal punto di vista di qualcuno che ha necessità diverse dalle nostre ci permette poi di valutare meglio come funziona l'ambiente e quali sono le necessità di tutti quelli che ci abitano non solo degli altri umani un po' il discorso che facevamo prima dell'antropocentrismo però appunto la stimolazione sensoriale e fonti di inquinamento particolarmente subdole come quello luminoso e acustico sarà un argomento del prossimo video che riguarderà i consigli per scrivere Xeno Fiction per questo giro abbiamo finito vi ringraziamo dell'attenzione e ci trovate trovate Benedetta su Instagram e trovate me nel blog gnami.org e il mio libro è uscito quindi storie di draghi godetevele se volete parlare di Xeno Fiction lasciateci dei commenti siamo qui per risponderci e fateci sapere se state scrivendo perché settimana scorsa vi abbiamo lasciato con un compito e noi vogliamo leggere le vostre storie quindi segnalateci i vostri esperimenti con la Xeno Fiction grazie per l'attenzione vediamo al prossimo video alla prossima settimana